Ha preso il via ieri da Piazza Verdi a Palermo l'edizione 2019 della targa Florio Classica, la chermesse del motorismo storico dell'Automobile Club Palermo ed Automobile Club Italia, con AC Sport e AC Storico, ha messo in moto ingranaggi e motori, auto e campioni della regolarità autostorica e personaggi che non potevano certo mancare ad onorare la memoria di Vincenzo Florio. Il grande evento ha preso le mosse come da tradizione al cospetto del Teatro Massimo, alla presenza del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, del presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato driver di una lancia Aurelia del 1957, del presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, anche lui in gara su Ferrari 360 Modena, e anche di Lapo Elkan, presente per la passione per i motori e la loro storia. La targa prosegue sino a domenica, si articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e penultimo round del campionato italiano Grandi Eventi è disputato dai top driver della regolarità. Sosteniamo quest'iniziativa, conferma convinzione. La targa Florio ricorda una delle stagioni più belle vissute da Palermo e dalla Sicilia in generale. Lo ha detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ha aggiunto «Abbiamo il dovere di guardare al futuro, di credere che possiamo rialzarci con la forza di tutti. Questa manifestazione che crea pathos, entusiasmo e che parla al cuore dei palermitani e dei siciliani non può non essere il punto di partenza. Ecco perché ci siamo e vogliamo continuare a esserci ogni anno. Sono qui per vivere insieme a voi l'ebbrezza di questo particolare momento».